La staggiela la signora! Non si sa lì, se fai un pezzettino oh guarda che siamo impalentati non si sa fai un pezzettino, veramente signora vedete che staggiano ma vedete che staggiano è il latte è il latte allora mi butto anch'io non si sa che non riescono a far raggiarci non riescono Quanto la vende? 1,8 e 2,15 euro